Buongiorno 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 Siamo a 30 secondi, 3, 2, 1, via! Dai Massimo! Massimo Fabio! Dai, 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 dai! Bella questa! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Sono 10 al mio giro, giro del percorso, non vi anche a 3 geni, c'è il sole, c'è il percorso tutto, l'abbiamo girato prima con il giratore, che è il tempo fa? Esatto! Per evitare la torta, l'abbiamo girato! Pronti anche per accompagnarvi alla partenza quando siamo in meno di 20 secondi? E' stato esatto! E' stato esattamente scorta, non in questo momento! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! No, c'è la notte di partenza come è fatta, il pacchetto è un nuovo divertimento, ci vediamo la terza del passaggio. Dai, 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 dai. il mio figlio no, i tagli, i tagli l'angherano, sai dove è l'angherano? dai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, 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 vai. Massimo, dai, davanti tuo fratello, dai. Dai, 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 dai. Dai, dai. 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 Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Dai. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. 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 Dai, Kika, dai! Dai, pene! Dai, Kika, dai! Secondo me ce la fa, ce la fa! Bravissimo! Bravissimo! Bevi! Bevi tanto, bevi bene! Dai! Dai, Luca! Ma lui sempre primo, eh? Quello che non sapete! Dai, Luca, dai! Dai, 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 dai! Dai, dai, dai! Dai! Dai, vince lui, vince... Dai, Robby! Dietro c'è il vuoto! Vai tranquillo che dietro c'è il vuoto! Dai, 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 dai! Dai, dai, dai! Pensavo che... Dietro c'è il vuoto! Vai tranquillo! Vai tranquillo! Qui non c'è nessuno della loro categoria! No, scusa lei! Adesso arrivo! Sta arrivando loro! Allora, Paolo teste! No, 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 grazie, grazie mille Dai 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 Passa a destra, bravo. 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 L'hai visto come l'hai detto prima. Passa a destra, bravo. 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 Grazie a tutti